Musica Rieccoci insieme cari telespettatori, allora come sempre un capitolo che dedichiamo all'informazione a darvi importanti e interessanti anche novità e approfondimenti con il mondo di feder contribuenti di cui tutti possono far parte e per essere sicuri, tranquilli, fare una vita protetta un po' a 360 gradi, perché no? Perché non vedere di avvicinarsi, di capirci meglio, di ascoltarci, di ascoltare soprattutto i nostri esperti che ogni volta interagiscono con noi e ci presentano degli aspetti interessanti. Vediamo di fare il punto della situazione, questa volta con Rocky Bulatovic, ben arrivato qui con noi, responsabile delle convenzioni di feder contribuenti e quindi riprendiamo anche quelle domande che ci avete fatto via mail, tutte un po' le convenzioni, quindi fare una testa da che cosa vuol dire, cosa implica, vantaggi e tutte le coperture che ci possono essere e ben ritornato anche il nostro Giancarlo Tripodi che è l'Iconet Marketer, ci spiegherà di che cosa si tratta, ne abbiamo già parlato, comunque una modalità di risparmio, vantaggi per i cittadini, vantaggi anche per le aziende, non vi annuncio niente di più perché poi sarà molto esplicativo ma ci supporterà anche un'intervista che abbiamo fatto all'amministratore delegato in occasione della presentazione ufficiale che si è svolta poco tempo fa al Caffè Pedrocchi di Padova. Però, incominciamo subito, vediamo un po' di riprendere il discorso e quindi le convenzioni, che cos'è la tessera di Feder Contribuenti. Buongiorno, Feder Contribuenti, come tante altre associazioni, cerca di tutelare i propri affiliati, contribuenti, consumatori per difendersi da varie anomalie che si presentano sul mercato, specialmente nel mercato dei servizi. In questo contesto abbiamo creato un apposito sistema di certificazione delle aziende che si comportano secondo un codice etico e commerciale serio e sano e queste società che sono convenzionate e certificate dei Feder Contribuenti possono dare la maggior garanzia di prestazione di servizi in maniera trasparente ai nostri affiliati associati. Per aderire a questi servizi bisogna tesserarsi con Feder Contribuenti. La tessera è valida per un anno rinnovabile. Nell'atto di tesseramento, il nuovo tesserato usufruisce di un pacchetto di vantaggi già compreso nella quota associativa. Vediamo la tutela legale e quest'anno abbiamo pensato di estendere questo servizio con altri vantaggi. Abbiamo introdotto una tessera salute con un piccolo contributo che permette al capo famiglia di usufruire dei vari servizi presso le strutture sanitarie. Con questa tessera di salute si possono integrare dei servizi assicurativi con la primaria compagnia mondiale nel settore di servizi di salute e assicurazioni. Quindi che riguardano però tutta la famiglia? Questa riguarda tutta la famiglia, riguarda una serie di prestazioni che sono tutte elencate nel opuscolo che verrà dato ai nostri associati e futuri aderenti. Quindi il vostro campo invece di tutela legale continua a spaziare da quello di carattere fiscale, tutti gli ambiti che poi abbiamo visto, delle energie, insomma avete tutta una serie di ambiti che vengono ripresi, anche il lavoro, ne avevamo parlato più volte. La tutela legale è pensata in un contesto sempre assicurativo perché abbiamo già una polizza non onerosa che sono 27 euro che riguarda tutti, l'abbiamo chiamata a fare dei contribuenti casa, anche questa. Per un anno, questo è un costo annuale, 27 euro, niente, io lo spesso lo indico come un costo di 10 anni, sono 270 euro, sono niente, questo permette di avere a disposizione per qualsiasi rottura che avviene a casa, piuttosto al parco macchine, piuttosto uno scasso al negozio, di avere subito pronto intervento di un idraulico, un elettricista, una guardia giurata che sta là a vedere e che non entri nessuno, magari se ha la vetrina rotta. Questo permette al nostro associato di non sentirsi da solo, di avere subito un pronto intervento a chi rivolgersi oltre all'associazione. Già la tessera li permette di avere accesso a tutti questi servizi. Poi abbiamo pensato di estendere questi servizi anche nel settore di acquisti, senza che noi ci poniamo come altri soggetti, altre associazioni, di fare una specie di accentratore di servizi a pagamento. Noi abbiamo nominato un nostro partner come un centro acquisti atipico che permette ai nostri associati, quando fanno la spesa ordinaria presso tutti i centri e aziende convenzionate, di avere un ritorno in denaro sul proprio conto corrente e qua vorrei passare... Infatti adesso vediamo, questo si tratta qui dei vantaggi economici, dei risparmi di spesa. Tutti va bene risparmiare, vediamo di capire qualche cosa in più, no? E poi sentiamo anche l'intervista. Innanzitutto così, Giancarlo Tripodi, chi è? Si ripresenti. Allora, io sono, intanto ringrazio sempre Fede Contribuenti per aver fatto questa partnership. Io sono uno degli sviluppatori di questo progetto in Italia e non solo. Noi che siamo gli sviluppatori ci racchiudiamo dentro un cappello che si chiama Lyconet, giusto per spiegare la scritta che compare sotto il mio nome. Lyconet è quel gruppo di persone che sviluppa il progetto a livello mondiale, sviluppa il progetto di cashback world a livello mondiale. Quindi il progetto si chiama cashback world? Il progetto verso il pubblico, il brand, del logo, ciò che vede il consumatore è cashback world, sempre cashback world. Dietro ci siamo noi che, appunto, facciamo gli accordi con i negozi, con le grandi associazioni, con tutti, con altre persone che vogliono collaborare con noi. Noi siamo Lyconet, questo è il gergo, il nome. Quindi io sono... Sarebbe come per semplicizzare agenti, una cosa del genere? Sì, possiamo, ecco, per italianizzare, per italianizzare il termine può essere un agente, uno sviluppatore, un incaricato che sviluppa poi il mercato in uno dei 47 paesi in cui siamo presenti. Perfetto. Poi vedremo anche delle slide interessanti in modo che capiamo la portata di questo progetto. Prima seguiamo insieme un'intervista che ne abbiamo fatto a Edoardo Moretti, AD, amministratore delegato di cashback world Italia. Vediamolo insieme. Moretti, più di un milione di italiani hanno scoperto cashback world. Di cosa si tratta? Ma è un progetto affascinante, sta facendo sognare tantissime persone, più di un milione in Italia, più di otto milioni nel mondo. È una card gratuita che è ottenibile sia online, quindi una card virtuale, ma anche una card fisica. E qui ne abbiamo un bellissimo esempio con Feder Contribuenti, brandizzata in questo caso con il logo, con la ragione sociale delle imprese e che in qualche modo è distribuibile alla propria base di supporter. Quindi Feder Contribuenti controlla che sia tutto ok per quanto riguarda questi acquisti, quindi togliamo la diffidenza. Ma è vero che si fa shopping guadagnando? Eh sì, quello è il concetto che al posto di avere uno sconto diretto, immediato o un accumulo di punti, in qualche modo uno ha subito qualcosa di concreto. A lunedì siamo tutti un po' arrabbiati perché inizia la settimana e al martedì invece vediamo un più sul conto corrente al superamento di 10 euro, di una significatività bancaria, ti venga bonificato un importo che è quello che tu hai maturato facendo shopping presso le imprese. Le imprese sono visualizzabili e geolocalizzate con un'app, quindi scaricabile gratuitamente, si può fare shopping in 47 paesi del mondo e in 5 continenti. Allora, abbiamo parlato di questa app, anzi abbiamo parlato di questa app, oppure l'alternativa perché giustamente magari ci sono pensionati che non sono così evoluti, però ugualmente sono interessati alla cosa perché poi insomma risparmiare, vedere se qualche soldino che pian pianino ritorna o capire ogni quanto ritorna, ci sarà una cifra minima dopo la quale viene, non penso che siano i 2 euro che vengono messi subito in conto o simili, me lo spiegherà lei. E poi al posto dell'app c'è un sito dove è possibile vedere anche quali sono le entità già convenzionate. Allora, sì, è alla portata di tutti, nostra logica è di arrivare a qualsiasi tipo di persona con questa opportunità, quindi c'è l'app per i più evoluti, diciamo così, che sullo smartphone uno può vedere tutte le attività convenzionate a seconda di dove si trova. Quindi viene geolocalizzato. Geolocalizzato, oppure fa anche una ricerca, quindi va sull'app e cerca cosa vuole comprare, se vuole comprare la pizza piuttosto che andare dal parrucchiere, quindi cerca e trova l'attività convenzionata più vicina dove può avere questo vantaggio. Lì potrà esibire o l'app stessa oppure esibire la tessera fisica, questo è l'esempio di fare dei contribuenti, per ogni attività avrà la propria tessera, quindi può avere anche altri loghi se viene ricevuta da altri negozi. La può esibire alla cassa, dietro c'è un codice a barre e lei esibisce la cassa. Ultima possibilità è dare alla cassa il proprio numero di telefono, quindi anche il pensionato, come dice lei, potrebbe arrivare alla cassa, sa di avere questa convenzione, questa tessera, non ha la tessera, non ha lo smartphone, ma si ricorda che sul numero di telefono lo dice la cassa. In questo punto cosa succede? A quel punto succede che se è un pagamento ordinario come prima, quindi il consumatore, il cliente paga come prima con i contanti, con la bancomat, con la carta di credito, come desidera, all'atto dell'acquisto l'esercente, il negozio tracerà l'acquisto sulla cassa, in quel caso su un'applicazione o su un suo sistema di registrazione, traccia l'acquisto, il cliente vedrà subito arrivare un sms, in tempo reale, dopo qualche secondo, riceve un sms dove ci sarà scritto, lei riceverà x euro di cashback e anche, vedrà scritto, cashback che vuol dire soldi di ritorno, quindi vedrà l'importo sul messaggino. Dopo aver cumulato almeno 10 euro, diciamo a colpi di acquisti, gli arriverà un bonifico, gli arriverà un bonifico sul proprio conto corrente bancario, al martedì. Al martedì, a carico, bonifico a carico di? A carico di cashback world, sì il consumatore non paga nulla. In genere questi vantaggi su che ammontare, che percentuale sono? Allora gli ammontari si vanno, questo ritorno di denaro va dall'1 al 5% ma può anche superare il 5%, in quel caso si chiama super cashback, sempre in termini inglesi, però vuol dire che può arrivare anche al 10, al 15, chi decide questo cashback, questo ritorno di denaro lo decide il negozio, quindi è il negoziante che alla sua piattaforma, perché si è convenzionato nel circuito, ha il suo sistema per fidelizzare i clienti, per decidere quanto offrire al cliente in denaro indietro e quindi è l'attività che si convenziona proprio per questo motivo. Per quello che dicevo all'inizio noi lavoriamo sui consumatori che vengono generati da associazioni tipo fidel contribuenti piuttosto che da negozi che si convenzionano e poi noi soprattutto noi agenti come chiamava lei o l'Aicone, il termine corretto, noi sviluppatori troviamo le attività che si vogliono convenzionare, infatti tramite fidel contribuenti l'idea anche quella, cioè un'opportunità per le aziende associate e anche affacciarsi a questo mondo. Infatti, ma qualora ci fossero dei prezzi già scontati, tipo dei saldi, faccio l'esempio per i negozi, oppure già delle convenzioni, questo si somma allo sconto effettuato? Sì, questo va sempre su ciò che si pagherà. Quindi non è che uno perde lo sconto che va applicato sul prezzo pieno? No, no, vale sempre comunque anche in periodo di saldi o di promozioni. Vi ha fatto l'esempio dei saldi, però immagino che le aziende, quali sono le tipologie di aziende che per ora sono state coinvolte? Allora, in Italia abbiamo in questo momento quasi 14.000 partite IVA, negozi, attività convenzionate. Poi, altra cosa importante, abbiamo anche tutto il mondo degli acquisti online. Quindi, con questa tessera, con questa applicazione, si può avere il ritorno di denaro anche su grandi nomi. Non so se posso citarne qualcuno, ma quelli più noti possono essere eBay e tanti altri. Quindi, grossi aziende. Grossi, da grossi a più piccoli. I piattaforme, i classici portali di e-commerce, cioè di acquisti online. Il vantaggio è equivalente? Cioè, con la tessera, ad esempio, adesso stiamo con fede contribuenti, di fede contribuenti, posso avere il ritorno di denaro sia dal parrucchiere, dal calzolaio, dal farmacista, piuttosto che su eBay o su Booking, su e-dreams, sulla benzina. Si tratta del fatto che da un lato deve aderire l'azienda, quindi più aziende aderiscono più aziende aderiscono, più consumatori poi sono anche allettati di conseguenza a consentire, perché è ovvio che dopo diventa un parterre di... Sì, è un crescendo di numero di aziende, numero di consumatori che poi si intrusano. Le tipologie di attività che permettono di risparmiare ogni giorno al consumatore. Noi l'abbiamo messo in questo contesto che con questo partner noi diamo un servizio diretto al cliente che quando alla fine del suo acquisto vede uno scontrino di 76 euro, il gestore del negozio ha scelto che percentuale devo devolvere a questo accordo con la cashback e automaticamente sull'importo pagato viene accreditato quella percentuale che è concordata. Perfetto. Abbiamo anche delle slide molto carine, però ve le faccio vedere dopo la pubblicità così il mio tempo anche di soffermarci anche per capire i paesi che hanno aderito già a questa convenzione, quindi non è una cosa che nasce così per caso o per un'idea, eccetera, ma è già diffusa anche altrove. Andiamo rapidamente in pubblicità, poi ritorniamo anche insieme.